mi dà un errore perché? perché questo accetta soltanto string il form control creiamo un nuovo form group per percorso new form group il form group del percorso diciamo che abbiamo una property che definiremo path e qui diciamo che è un nuovo new form quindi diciamo che questo è un form array un form array ovviamente come il form group si aspetta qualcosa in ingresso e noi qui mettiamo quadra quadra perché? perché in questo momento il path è vuoto non definiamo niente o meglio se vogliamo possiamo anche mettere un valore iniziale ma facciamolo ci mettiamo come abbiamo visto nel form group perché il form array in realtà può gestire una array di form control tutti fanno l'esempio di un form control e invece vi voglio vedere vedere come poter gestire anche un form group all'interno di un form array quindi qui facciamo facciamo qui dentro il form array new form group dei nostri controlli mettiamo un controllo semplice destinazione destinazione due punti new form control di stringa abbiamo visto come tipizzare e mettiamo una destinazione tanto per vedere qualche cosa allora come vedete qui magari se stilizziamo un pochino meglio il center form ok diciamo host pioccio la apply overflow y auto così va più carino come vedete già il json prende l'array di destinazione però l'utente ovviamente potrà aggiungere nuove destinazioni quindi creare un percorso nel nostro nel nostro diciamo quasi su google map no e oppure rimuovere la destinazione quindi andiamo andiamo a crearlo come vedete la prima cosa che io faccio è creare la logica quindi andare a creare all'interno del del controller i vari i vari elementi ovviamente la destinazione per poter raggiungere altre destinazioni sarà dovremmo aggiungere un validetto essere quale no perché se no che andiamo a aggiungere destinazioni vuote no andiamo a aggiungere validetto essere quale andiamo avanti andiamo a creare una funzione che chiameremo on add destinazione poi ci aggiungeremo metteremo un data binding al bottone add on add destinazione non ci non passeremo nessun parametro qui e non ritornerà niente quindi di tipo void e qui diremo this punto form punto controls punto per percorso punto controls perché per percorso se vi ricordate prima è un form group vedete che lo dice poi controls punto path punto e path se andate a vedere è un form array quindi che dobbiamo fare in questo form array dovremo nient'altro che fare una push di che cosa di siccome abbiamo definito che qui dentro questo form array ci sarà un form group andremo ad aggiungere in poche parole un new form group destinazione ora messo così diciamo vabbè intanto facciamolo così andiamo a vedere l'html quindi ci serve nel nostro if ovviamente qui la cosa migliore sarebbe spezzare in due componenti no? quindi avere diciamo due componenti due componenti no? uno per la gestione del percorso e uno per la gestione ad esempio delle cerche per distanza in questo caso non lo sto facendo perché voglio farvi vedere il tutto in un unico componente ma solitamente si spezza ok? quindi si crea un form group un controllo un form group in questo momento lo otteniamo così semplicemente perché così riuscite a capire meglio almeno dal mio punto di vista poi se non capite ditemelo magari lo ristrutturiamo riusciamo a vedere come funzionano anche il form array con il form group tu quanto vieni stato in un unico componente andiamo qui allora nell'html dobbiamo andare a fare il form array quindi qui facciamo un ng container ragazzi io vi suggerisco non create div se non vi servono i div appesantiscono la pagina l'ng container ve lo faccio vedere se andate a fare ispezione a pagina è come avere non avere il componente serve soltanto ad angola per definire ad esempio il form group però non crea componenti html quindi ottimizzate anche l'interfaccia usate ng container soprattutto quando dovete fare gli if vabbè ormai c'è il chioccio la if una volta l'ng container si poteva usare ad esempio con le direttive strutturali con l'ng if oppure con l'ng for oppure come in questo caso per il form group allora il form group che cos'è form punto controls punto in questo caso è per percorso quindi il form group è per percorso a questo punto dovremo fare un ciclo quindi usiamo le nuove nuova sintassi di angular for let che cosa non c'è let destinazione form che sarebbe il nostro form group off adesso qui io dovrei dirgli qualche cosa questo è un modo per implementare il form array dobbiamo ritornare nel controller e fare questa cosa questo serve ad angular proprio per creare il form array e gestire il form array dobbiamo fare una get una get destinazioni ad esempio noi la chiamiamo destinazioni che ritornerà un array di form group perché noi stiamo definendo dentro path c'è form group ok quindi sarà un array di form group e qui facciamo un return this.form .contros .per per percorso perché siamo nell'ambito del percorso .contros .path qui in questo momento ci dà un errore perché perché dice guarda che non è un array non sa che è un array quindi dobbiamo cassarlo dobbiamo vi faccio vedere il casting form array così abbiamo cassato il path ma in realtà qui gli sto chiedendo l'array del form group perché a me interessa il form group questo lo farò vedere pochissime persone quindi che faccio ci metto la parentesi tonda .contros as form group quadra quadra questo è un piccolo trick che vi faccio vedere così in questa property che verrà ricalcolata quando viene cambiato il form array avremo l'array del form group quindi ritorniamo nel nostro html qui mettiamo questo appunto destinazioni ho chiamato destinazioni sì destinazioni qui dentro for loop ah sì giusto track track dollaro index e qui ci avremo il nostro elemento andiamo appunto in questo caso magari possiamo effettivamente creare un div perché magari vogliamo stilizzare il contenuto che c'è qui all'interno ci mettiamo un nostro bel input tipo text a questo punto qui diciamo form control name è uguale a che cosa come l'abbiamo chiamato destinazione quindi qui mettiamo destinazione andiamo a salvare andiamo per percorso e come vedete c'è la prima destinazione in realtà c'è soltanto il textbox ma non c'è il valore vedete che qui mi dice che c'è destinazione perché perché dobbiamo dire che questo questo div che potremmo metterci anche in un gcontainer in questo momento ci serve il div perché poi andremo a utilizzarlo un po' meglio qui dobbiamo dirgli che il form group di questo componente è destinazione niente form group uguale destinazione forma che è quello che viene definito qui andiamo a risalvare andiamo di nuovo per percorso e vedete che qui adesso se io cambio cambia anche l'elemento all'interno dei path che è un form array notate bene intanto cambiamo il valore di default non vogliamo più avere per distanza ma vogliamo mettere percorso guardate nel momento su cui io tipizzo mi salta fuori anche nell'intelligence il valore che io posso far associare al radio no a questo punto qui sotto ci aggiungiamo un pulsante che mi serve per aggiungere una nuova destinazione aggiungi nuova destinazione andiamo a vedere ok salta fuori un po' grandicello qui al click on add destinazione ng container al display no perché non è ng container non è un elemento html ng container è un elemento html solo utile per angular che però dal punto di vista html non fa vedere niente cioè non esiste se tu vai a vedere nell'html di risultato l'ng container angular ci aggiunge questa cosa qui non aggiunge un div non aggiunge nessun elemento vedi fa ng container ng container dov'è scusate non questo ng content eccolo vedete questo è il primo qui fa ng content con energy reflect ok questo è il nostro div interno ma non c'è un elemento potreste potuto usarlo al posto del div dentro il loop in che senso si io potevo farlo anche qua un div si potevo metterlo anche qui ng meno container devo fare la stessa identica cosa ok il risultato dal punto di vista html non cambiava non avevo il div è che adesso mi serve il div perché ci aggiungeremo il pulsante di rimozione della destinazione è tutto qui per questo mi serve il div però posso metterci anche l'ng container e l'html risulta molto più semplice perché se non ho bisogno del div perché mettercelo il div viene renderizzato comunque sia cioè il browser comunque sia lo renderizza perché aggiungerlo non serve ritorniamo come era prima come vedete non è cambiato nulla ovviamente qui adesso la destinazione non è stilizzato perché bisogna metterlo appunto con il suo stile se vi ricordate l'avevamo messo come form meno input aggiungiamo il pulsante di eliminazione fatto ah no scusate stavamo aggiungendo la nuova destinazione l'avevamo già creato qui la funzione per aggiungere la destinazione avevamo fatto il push andiamo a vedere se funziona e come vedete sta aggiungendo elementi al nostro form array e come vedete qui il json ha aggiunto destinazione ovviamente sempre destinazione è un po' un po' bruttino quindi cosa possiamo fare ad esempio per migliorarlo un pochettino qui possiamo aggiungerci ad esempio possiamo fare un più e dirgli di metterci un lente tanto per differenziare andiamo risalviamo andiamo a vedere effettivamente funzioni adesso vedremo destinazione 1 destinazione 2 destinazione 3 4 5 andiamo a fare la funzione di cancellazione di una riga quindi aggiungiamo il bottone qui dentro facciamo cancella e nel click diciamo on delete destinazione quindi qui andiamo a creare questa funzione di cancellazione della destinazione andiamo a creare il metodo ok nel controller e qui ovviamente lo mette sempre in testata eccolo qua prendiamo questo lo portiamo giù magari facciamo anche un format non riesco a vedere il codice così disordinato qui dobbiamo eliminare la specifica destinazione come facciamo dobbiamo farci passare all'on delete magari formattiamo anche questo ah qui non c'è settato vabbè dobbiamo passarci qual è l'elemento che vogliamo andare a cancellare l'elemento che vogliamo andare a cancellare è questo dollaro index se io lo passo come parametro ovviamente mi dice guarda che la funzione non accetta niente in parametro qui metteremo numero i punti number i punti void che non ritornerà niente andiamo a salvare il tutto ovviamente adesso comparirà il pulsante di cancellazione mamma mia che brutto con questo numero cosa dobbiamo dirgli dobbiamo dirgli al form array di cancellare quel elemento iesimo andiamo a cancellare da il nostro form array quindi cosa facciamo prendiamo questo questo qui punto remove et numero e andiamo a cancellare dai nostri controlli la destinazione andiamo a vedere se è vero aggiungiamo aggiungiamo cancelliamo destinazione 1 e come vedete sto cancellando il mio form array abbiamo stato destinazione 3 e destinazione 3 vedete vi avevo promesso che avremmo tipizzato anche il resto e quindi ad esempio il form array in questo momento abbiamo sì il form group e il form control con string però non abbiamo tipizzato il form group e quindi adesso andiamo a tipizzare il percorso che cosa ha soltanto la destinazione andiamo su scusate ecco qui abbiamo soltanto la destinazione e vogliamo andarlo a tipizzare cioè vogliamo decidere che questo form array abbia una struttura ben specifica quali sono i vantaggi quelli che vi dicevo prima cioè che a compile time